È il 1960. 1960? Sì. Sei rimasto con noi per 14 anni. È il 1960. Devo contattare l'esercito americano, trovare la mia unità e dirgli che sono pronto a combattere. Non c'è più guerra. È finita. Niente più esercito. No. La guerra non è finita. Ci sono ancora molti nazisti. Hanno vinto. È finita. I nazisti governano il mondo. Sono dappertutto. Ovunque. E gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti... loro... come si dice? Poddaci. Si sono arresi. Si sono arresi? Per colpa di... Boom! Bomba atomica. Gli Stati Uniti si sono arresi 12 anni fa, quando i nazisti li hanno bombardati. Già. Allora troverò la resistenza e li aiuterò a combattere. No, no, no! Non c'è più la resistenza. Tutti sono stati catturati. Se sono vivi, sono prigionieri dei nazisti. E chi lo sa dove li tengono? Oh!